Un modo singolare di passare la Pasqua librandosi in aria agli anti da quasi tutta Europa, dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Germania, dall'Austria per la festa del volo a vela nel Varesotto. Motori accesi fin dalle prime ore della mattina sulle rive del lago di Varese per trenare in quota decine di agli anti che in prossimità della Pasqua da tutta la penisola, Svizzera, Austria e Germania comprese, scelgono l'aeroclub alle pendici del Campo dei Fiori per la prima festa del cielo della stagione. E' inspiegabile le sensazioni che può provare un pilota di volo a vela o di motore, ma soprattutto di volo a vela. Difficile trasmettere queste sensazioni. Qui fra laghi e montagne le correnti ascensionali non mancano e la stagione del volo a vela arriva prima che da altre parti, dice Margherita Quaderni, presidente dell'aeroclub Adele Orsi. Voli straordinari che ci consentono di andare verso est, verso le Dolomiti, l'Austria, la Slovenia, mentre verso ovest riusciamo ad arrivare a spingerci anche fino al Principato di Monaco. Un campo volo per agli anti con 250 iscritti, fra i più importanti a livello nazionale, che vuole appassionare all'aria anche chi non può più camminare con le proprie gambe. C'è una grande novità, abbiamo fatto predisporre uno dei nostri biposti anche per far volare i disabili, per far ottenere il brevetto ai disabili. E questo è un progetto a cui io tengo particolarmente. E sono anche in contatto con l'unità spinale della Niguarda, perché l'idea di poter fare volare delle persone che non hanno più la possibilità di camminare, significa ridare loro la libertà.